buonasera buonasera e benvenuti a tutti al festival della bellezza quest'anno è il secondo appuntamento abbiamo cominciato questo progetto insieme con il sindaco Mongia e con l'amministrazione comunale di Monterosso che ringraziamo davvero per proprio la condivisione del progetto e anche la passione che ci mette per organizzare per portare sempre il festival a Monterosso e un grande grazie a Igor Sibaldi che è un caro amico nostro ed è un caro amico del festival e tra l'altro quest'anno abbiamo anche alcuni altri appuntamenti come con lui come potete vedere dal programma e desideriamo anche ringraziare il ministero della cultura abbiamo il patrocinio del ministero e il nostro main partner è Cattolica Assicurazioni nell'ambito del progetto generali valore cultura è una serata magnifica l'anno scorso con Umberto Galimberti non sfortunati perché in realtà è stata un'esperienza bellissima ci siamo poi rifugiati tutti nella nella chiesa pioveva terribilmente siamo riusciti a prendere questa unica serata di acqua e invece devo dire che insomma scoprire e godere le serate Monterossine con questo clima e in questa condizione di bellezza di poesia di filosofia abbastanza emozionante quindi grazie a voi che siete qui e un grande grazie al sindaco a cui lascio la parola per un benvenuto no grazie grazie a voi di essere intervenuti grazie a te Alessandra per aver scelto e prescelto il festival della bellezza anche quest'anno ha scelto Monterosso è tornato a Monterosso e noi siamo veramente felici di poter continuare questa bella sinergia voi sapete che il festival della bellezza presceglie anche dei luoghi dei siti UNESCO proprio per evidenziare l'importanza dell'arte nella nostra cultura nella nostra tradizione nella cultura nella tradizione della nostra civiltà il nostro è pure un sito UNESCO il sito UNESCO delle cinque terre isola parmari e porto venere però alla specificità del paesaggio noi sappiamo la bellezza del paesaggio e la cultura e la costruzione del paesaggio soprattutto in questo in questo pezzo di mondo è dovuta a un lavoro certosino e sapiente dell'uomo che da generazioni ha saputo strappare al mare tutti questi terrazzamenti e rendere questo mondo e questa natura un qualcosa di unico e oggi siamo davvero anche curiosi di sapere come il professor Sibaldi saprà declinare questa bellezza che molti altri poeti nella nostra storia noi sappiamo che Monterosso è patria di Eugenio Montale proprio qua sotto c'è questo striscione che ricorda delle divertite passioni per miracolo tace la guerra questo Montale l'aveva scritto nella sua giovinezza quando qui aveva passato gli anni drammatici della seconda guerra mondiale ecco e qui questo momento storico credo che dobbiamo essere anche molto grati manifestare questa gratitudine alla vita di essere dei privilegiati questa sera a poter godere di questa serenità di questa pace sociale nella quale viviamo e anche poter apprezzare in questa cornice di bellezza anche una lezione di vita quindi grazie anche a voi siete sempre benvenuti nel nostro paese alle cinque terre e un grande saluto al professore grazie e accogliamo i corsi balli buonasera 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 a tutti grazie al festival della bellezza grazie al vostro sindaco che ho avuto il piacere di conoscere oggi e buona serata in riva al mare voi non c'eravate tutti negli anni 60 vero e poi negli anni 70 alcuni di voi non leggevano ancora quindi stasera dovete credermi sulla parola se vi dico che nel secondo dopo guerra dopo il 45 l'italia colta e anche l'italia informata erano era freudiana di osservanza freudiana ma proprio era una fede che nutrivano in freud una fede che è un fatto così interessante dal punto di vista culturale perché nessuno l'ha ancora spiegata e stasera proviamo un po a capirla è nuovo come questione perché quando un grosso equivoco comincia a disgregarsi ci vuole molto tempo prima che sparisca e quello che dico stasera tra dieci anni sicuramente sarà chiaro a tutti ma per adesso ancora nuovo per tanti per esempio voi sapete chi era pasolini negli anni 60 e 50 ecco pasolini uomo sempre religioso a suo modo aveva trovato in freud un oggetto di fede quando parlava di dostoevsky parlava di freud e diceva questo qui si spiega in base al complesso di edipo questo si spiega in base al senso di colpa tutte categorie freudiane il suo compagno di giochi di lavoro moravia che uomo sempre laico che non credeva in niente in niente però aveva sentito che freud era più ascoltato di tanti altri era più ascoltato per esempio di sartre filosofo francese che diceva ma credete in freud di nabokov che diceva ma è assurdo credo prendono sul serio freud bertrand russell popper filosofi importanti che dicevano ma come fa freud a essere ad avere questo seguito non si accorgono che è finto ecco moravia diceva sì ma chi è che legge bertrand russell chi è che legge popper freud invece lo seguono tutti quindi moravia probabilmente non credeva assolutamente in freud ma aveva una sua linea di comportamento per cui diceva tu non ti impicciare di che sei d'accordo non rompere le scatole e sono le due star degli anni 50 e 60 pasolini figurarsi gli altri come mai perché uno dice beh è una moda no no non è una moda perché la fiducia in freud è cominciata questo eccesso di fiducia in freud è cominciato negli anni 20 a diventare conclamato importante ed è finito alla fine del secolo nessuna moda dura 80 90 anni quindi non è una moda è qualcos'altro oggi freud in psicologia è classificato come un dilettante ingegnoso ingegnoso ma dilettante perché per due ragioni naturalmente sto dicendo se qui devo se tra voi c'è qualche psicoanalista può darsi che sia ancora legato a freud e dica mi alzo e me ne vado ecco e sì vi ho detto che ancora una cosa nuova per due ragioni considerato un dilettante freud perché prima di tutto teorizzava la psiche senza sapere nulla del funzionamento del cervello che allora ai suoi tempi non era studiato quindi le sue opinioni erano distaccate dalla parte fisica che parlando di scienza insomma è un grosso problema un dilettante può fare così io posso dire quella pianta mi ricorda un presepe napoletano quel cactus mi ricordo un presepe napoletano posso teorizzare questa somiglianza tra quel cactus è un presepe napoletano però non so niente di biologia non so non so quella pianta come vive ecco freud parlava della psiche che sicuramente ha a che fare col cervello senza sapere niente del cervello seconda cosa seconda cosa per cui freud è un dilettante molto più grave è perché aveva un suo modello una sua teoria inventata da lui inventata anche abbastanza in fretta e in base a questo modello a questa teoria sceglieva questo è grave sceglieva e scartava i fatti da analizzare e questo uno scienziato non lo fa lo scienziato prende tutti i fatti disponibili se li osserva prima di farsi la teoria prima di farsi la teoria vede una quantità enorme di fatti quando ha fatto una teoria dopo aver fatto dopo aver esaminato i fatti è pronto a cambiarla a ogni mese lo scienziato è l'acerrimo nemico delle sue stesse teorie perché deve smontarle la scienza si fa così non esiste la scienza che dice io ho ragione e basta la scienza dice per oggi a me sembra che i pianeti si attragano se un domani salta fuori un caso nuovo e domani o dopo domani o tra un mese io cambio subito idea non è che elimino il fatto nuovo perché mi da torto e invece Freud passava alla storia per una famosa battuta che aveva fatto serissima per lui una volta che gli hanno chiesto ma sapete che Freud fumava no? fumava avidamente lo studio di Freud era famoso c'era il divano c'era la sua poltrona e c'era un odore di sigaro una nebbia di sigaro forte il sigaro un odore pesante e il paziente entrava e veniva avvolto dalla nebbia di sigaro c'era Freud seduto con il cane Freud visitava con accanto il cane il cane che ogni tanto si annoiava e usciva perché ascoltava un paziente e diceva questo è troppo noioso per cui il cane raspava la porta per poter uscire ecco il fumo aveva prodotto a Freud un tumore alla gengiva avrebbe dovuto smettere prima e non ha mai smesso di fumare e gli dicono ma come mai lei fuma? lei ha presente l'effetto cioè il significato fallico del sigaro la risposta di Freud in certi casi un sigaro è solo un sigaro e questo non è scientifica naturalmente come cosa no? cioè se una teoria vale ecco uno scienziato professionista questo non lo fa il dilettante sì può farlo adesso una cosa che Freud fa e ha segnato un secolo intero tra l'altro un secolo intero Freud è quello che a un certo punto ha cominciato a parlare di contenuti della mente e ancora adesso si parla dei contenuti della mente facendo passare l'idea che la mente sia una scatola il che può anche essere vero perché la scatola cranica è una scatola solo che la mente per essere una scatola dovrebbe avere lo spazio e il tempo una scatola è un fatto spaziale se c'è lo spazio c'è anche il tempo la mente si sa non ha né spazio né tempo la mente non ha spazio quando tu pensi non c'è un pensiero che si fa strada accanto ad altri pensieri o pensieri che sono sulla destra o sulla sinistra o in alto o in basso la mente non ha queste categorie la mente non ha il tempo perché come sapete capita spesso quel fenomeno che si chiama precognizione per cui uno pensa una cosa e poi la cosa gli succede tutto questo significherebbe che la mente non ha il nostro tempo che noi misuriamo con l'orologio invece pensando la mente come scatola con i contenuti quindi si semplifica la situazione della mente con un avvantaggio solo del modello della teoria e questo è diventato per l'umanità l'umanità intera del secolo scorso legge legge, fondamento, realtà senza che nessuno osasse protestare perché era così ovvio l'ha notato Sartre questo dice contenuti della mente ma quali contenuti? la mente contiene noi o noi conteniamo la mente? ma è assurda come domanda ecco nessuno ha ascoltato Sartre salvo i sartriani i parigini che andavano nelle osterie parigine negli anni 50 e Freud invece era seguito da tutti importanti e non importanti da ragazzi noi negli anni 70 Marx e Freud non si arrivava neanche a leggerli perché erano così noti che ogni mio coetaneo conosceva Marx senza aver mai letto neanche una riga di Marx perché ne parlavano tutti e allo stesso modo si parlava di Freud in questo modo tutti spavano cos'era il senso di colpa il complesso di Edipo di cui parleremo tra poco una moda dicevo non era una moda perché è durata troppo era un problema come mai una cultura intera per un secolo si è bloccata lì è un problema che non ha ancora soluzione nessuno ci ha ancora pensato semplicemente nelle facoltà di psicologia Freud non viene più insegnato non viene più insegnato non viene preso in considerazione ma nessuno si spiega come mai è passato questo è un fatto che capita sempre con i guai grossi dell'umanità per esempio quando c'è stato i campi di concentramento nazisti o sovietici quelli sovietici sono conosciuti i campi di concentramento di sterminio negli anni 40 44 45 i primi libri che sono usciti e tutti hanno preso atto delle informazioni ma nessuno le ha capite nessuno le ha spiegate per 30 anni negli anni 70 si è cominciato a pensare ma i russi avevano i campi di concentramento sterminavano le persone quanti milioni di persone hanno ucciso così anche per i campi di concentramento nazisti le foto di Auschwitz e di Buchenwald giravano già negli anni 40 ma nessuno ci ha pensato fino agli anni 60 fino al processo Eichmann cioè ci ha avuto 20 anni dalla notizia alla comprensione delle notizie per adesso la notizia è che Freud è passato perché ci sia stato cosa abbia significato non si sa ancora e oggi ne proviamo a parlare un secolo intero che secolo era quello lì il novecento? era il secolo di Einstein che Freud probabilmente non conosceva bene ecco pensate il modello psicologico di Einstein qual era perché Einstein non era solo un fisico quando ha scoperto la relatività Einstein ha avuto questa biografia interessante ha scoperto la relatività ha preso il premio Nobel e poi è andato oltre per trovare una funzione unificante in termini tecnici tra la gravità e l'elettromagnetismo e ha arrivato a immaginare una quarta dimensione non so se lo sapete negli anni 30 ne parlavano tutti avete visto Casablanca? il film vi ricordate la canzone di Casablanca? As time goes by quella che suona il pianista nero ecco quella canzone lì nessuno lo sa ma è su Einstein il primo ritornello è the fundamental things apply as time goes by ecco la prima strofa è noi siamo veramente stufi we are really weary of Mr. Einstein's theory siamo veramente stufi della teoria di Mr. Einstein cose come fourth dimension e cose la quarta dimensione cose di questo tipo che ci fanno pensare che non ci sia più niente di reale invece as time mentre il tempo passa the fundamental things apply as time goes by le cose importanti si vedono lo stesso anche se c'è Einstein c'è una canzone di Hollywood di un musical di Hollywood che era dedicata a Einstein perché era famosissimo negli anni 30 Einstein e cosa diceva nelle sue nelle conseguenze della sua teoria diceva per esempio che lo spazio e il tempo ci sono esistono in un mondo in un mondo in un universo fino a Einstein si pensava che ci fosse un universo dopo Einstein dopo il 1915 si è cominciato a pensare che ci fosse un universo e un altro e un altro e un altro e si potesse passare da un universo in cui noi siamo in altri universi diversi in cui ci sono uno spazio e un tempo completamente differenti dal nostro e il limite può essere superato si chiama orizzonte l'orizzonte dell'universo può essere superato e Einstein diceva la psicologia dovrebbe ragionarci c'era uno psicologo per esempio francese coetaneo di Freud Pierre Jeunet che l'ha preso molto sul serio Einstein negli anni 20 e ha fatto una sua teoria molto bella dicendo sì lo spazio e il tempo possono essere superati nella nostra mente uno psicologo famoso di grande successo lo spazio e il tempo possono essere superati nella nostra mente noi possiamo nella nostra mente sopraelevare le percezioni tant'è vero che con un picco con poca fatica noi potremmo oggi sulle mura di Orléans incontrare la signorina Giovanna d'Arco e chiacchierare un po' con lei perché la mente arriva in una situazione non spaziale non temporale che gli artisti conoscono e che tutti possono sperimentare e che la fisica ci spiega e che dovrebbe essere fatta diventare conosciuta a tutti ha avuto seguito Pierre Genet niente mentre Freud parlava della sua mente scatola con i suoi contenuti limitati all'interno c'era oltre a a questo punto di vista c'era Jung Jung che era il discepolo di Freud con cui poi Freud ha litigato ha litigato perché da una lettera famosa risulta che Freud si sentiva il Mosè della psicanalisi diceva io sono Mosè io ho indicato la via e tu Carl Gustav sarai Josué cioè tu entrerai nella terra promessa che io ho indicato Jung ha citato per un po' poi ha litigato Jung se n'è andato perché non gli piaceva fare il Josué Josué è quello che quando muore Mosè guida il popolo nella terra promessa e diceva no lui è uno scienziato non è un profeta e io lavoro per conto mio e Jung si è messo per conto suo a lavorare scoprendo delle cose che Freud evitava assolutamente per esempio la discussione famosa tra Jung e Freud Jung dice ci sono dei fenomeni che la mente può provocare che lei professore non spiega e non considera e Freud dice non esistono questi fenomeni esistono erano nella biblioteca di Freud io le garantisco che tra due minuti quello scaffale farà rumore la fibra del legno si seccherà fa quel grado di secchezza che è invernale che può capitare e si sentirà uno stridio e Freud risponde con una risata dopo due minuti lo scaffale fa rumore e Freud sviene dopodiché si sveglia e non vuole più vedere Jung ecco non è una discussione scientifica questa Jung naturalmente se ne è accorto si è messo per conto suo e ha cominciato a elaborare delle sue teorie molto audaci non freudiane però sempre anche lui rispettando le regole stabilite da Freud per cui sì faceva i suoi saggi sulle sue ricerche ma le cose che scopriva non le raccontava perché non voleva distanziarsi tanto da Freud per esempio lo si sa quello che scopriva perché nella sua autobiografia Jung le scrive tutte le cose che ha scoperto con l'incarico che ha lasciato la sua segretaria di pubblicare la sua autobiografia il mese successivo alla sua morte per non uscire dal seminato freudiano dalla senso di realtà di Freud e quel libro è molto interessante l'ha pubblicato Rizzoli in Italia si chiama Ricordi Sogni Riflessioni racconta che a un certo punto Jung comincia a incontrare delle personalità invisibili nel 1911 la incontra in giardino con una leggera concentrazione prende nota delle conversazioni legge le conversazioni di cui ha preso nota e sbigottisce queste personalità gli dicono sai tu fai lo psicologo ma non hai capito niente di psicologia è meglio che te la spieghiamo un po' noi sono ai vostri ordini diciamo raccontate pure bene comincia a pensare questo poi quest'altro poi quest'altro ancora sai quanti tipi di personalità ci sono al mondo ci sono questo questo e quest'altro e gli danno schemi informazioni una fonte di informazione straordinaria che arriva a Jung attraverso niente attraverso la mente che per un attimo esce fuori dal suo orizzonte e Jung poi nella sua tipografia dice tutte le cose interessanti che ho scoperto io il sé la teoria delle personalità l'influsso dei tipi psicologici su tutta quanta la cultura umana ecco tutte queste cose qui non le ho scoperte io con i miei studi le ho scoperte grazie a quei momenti di intuizione che io potevo guidare ma di cui non ho mai parlato perché perché non si usava ai tempi nostri e non si usava perché Freud determinava la psicologia di allora che era il più possibile positivista il più possibile concreta dice sì vabbè Jung magari aveva il suo metodo Freud aveva il suo l'importante per un metodo è se funziona funziona il metodo di Freud no non funziona non funziona dal punto di vista terapeutico perché non è decisivo c'è un saggio di Freud che si chiama analisi terminabile interminabile in cui dice se uno comincia a fare un'analisi psicoanalitica bisogna fermarsi a un certo punto perché si arriva a mettere in discussione troppe cose si mettono in discussione troppe cose e questo non è bene per l'ordine sociale cioè io non posso arriva una persona da me e comincia a dirmi qualcosa io continuo a indagare sul suo passato e scopro che questa persona sia sbagliata a sposarsi e io non posso intervenire sul suo matrimonio non posso mettergli davanti agli occhi la necessità di un divorzio quindi bisogna terminare l'analisi per evitare di produrre disturbo naturalmente se uno ha questi problemi è chiaro che la terapia ha dei limiti grossi ma Freud non discute questo fatto dice io non voglio curare le persone e fare diventare felici il mio scopo dice Freud nelle sue lettere e nei suoi saggi è portare i miei pazienti come grande risultato come massimo risultato a una moderata infelicità stanno male ma non si lamentano più ecco l'importante è che non si lamentino più ci metto diversi anni per ottenere questo risultato anni a che costo è un costo altissimo Freud era molto costoso come psicanalista a giornata cioè a ora a ora e sì ma se il risultato è una moderata infelicità dice beh quello naturalmente alcuni possono permetterselo altri no altri sono infelici del tutto i ricchi possono gli altri no e questo dal punto di vista terapeutico si può discutere dal punto di vista culturale perché Freud parlava molto anche di di psicologia della cultura anche lì Freud fa restare un po' perplessi oggi a sentirlo oggi adesso vi faccio degli esempi di quello diceva Freud che ai tempi miei negli anni 70 erano legge erano legge cioè quello che adesso sentirete che spero vi produrrà imbarazzo negli anni 70 era una cosa evidentissima era un dogma cosa che nessuna scienza può proporre per esempio punto primo famosa affermazione il senso di colpa secondo Freud è genetico in Totem e Tabù c'è quella frase che dice un libro degli anni 10 del 900 dice noi noi riteniamo noi chi è il libro del suo noi riteniamo che il senso di colpa sia connaturato da decine di migliaia di anni alla natura umana in modo inestirpabile e questo senso di colpa dice Freud deriva dal fatto che in un'antica tribù preistorica i giovani hanno ucciso il capo tribù anziano perché il capo tribù anziano si faceva tutte le donne della tribù allora i giovani esasperati lo hanno assassinato da allora l'umanità si sente in colpa uno sente questa cosa e dice follia cioè dammi una prova un graffito un racconto qualcosa niente dove gli è venuto a questo è venuto in mente a lui solo che la gente ci crede ci ha creduto per un secolo poi altro elemento famosa frase le donne sono afflitte dall'invidia del pene trova bene una che invidi il pene dice no è così le donne vivono nel tormento di essere prive dell'organo genitale maschile dammi la prova e poi io posso darti un sacco di prove al contrario cioè c'è un travestismo maschile dove si vede che sono gli uomini che invidiano il seno più che le donne il pene però Freud e questa cosa l'invidia del pene anche questa io me la ricordo quando ero al liceo ma era ovvio tutti lo sapevano le donne vivono il pene e questo è Freud poi il complesso di Edipo è una costante delle culture di tutta l'umanità cos'è il complesso di Edipo il complesso di Edipo naturalmente ne parla Freud l'ha inventato lui il complesso di Edipo è l'impulso del figlio maschio ad assassinare il padre e a sposarsi con la madre tutti secondo Freud ne soffrono non si può guarire da questo complesso di Edipo perché è potentissimo l'unico l'unico modo in cui se ne può guarire è la regola dice Freud dell'insuccesso e fa l'esempio se uno prova ad aprire una porta che si apre tirando prova ad aprirla spingendo ci può provare anche per anni a un certo punto lascia perdere e prova un altro metodo e così uno si stanca di voler uccidere il padre di voler sposare la madre lascia perdere e gli pensa a qualcos'altro che uno a sentire adesso queste cose ma chi è che l'ha detta ma come è fatto negli mente perché c'è il mito di Edipo ma il mito di Edipo non dice non parla di un figlio che uccide il padre premeditatamente il mito di Edipo è la storia di un padre che odia il figlio e lo vuole far uccidere e lo fa portare in campagna per essere divorato dalle belve e per portarlo gli fa un buco nei tendini dietro il calcagno per cui lo portavano con un gancio tenuto per i due piedi da cui il termine Edipo dai piedi dolci perché faticava a camminare questo vive per conto suo e scampa la storia di Biancaneve o di sì la storia di Biancaneve impara a camminare diventa un guerriero anche notevole per slancio per autonomia e un giorno passando per una strada per un futile motivo per una questione di precedenza con una persona prepotente che vuole passare davanti a lui scoppia una rissa in cui la persona prepotente lo vuole uccidere lui per difendersi lo uccide molti anni dopo scoprirà che era suo padre ecco ma Freud non parla di questo quindi ha sbagliato il tema Freud parla di un impulso cosciente all'uccisione del padre da parte del figlio maschio dice hai le prove quindi prove ne trova d'altra parte se uno si dice nella scienza se uno cerca delle prove di qualunque cosa le può trovare basta che cerchi bene l'importante è che trovi anche delle prove contrarie poi valuti un po' ecco Freud non ha visto le prove contrarie le prove contrarie che sono evidentissime sono che in tutta la nostra cultura e anche nel mito di Edipo non è la pulsione omicida del figlio verso il padre la parte principale è la pulsione omicida del padre verso il figlio cosa c'è su tutte le nostre chiese c'è un crocifisso con una persona crocifissa chi è il crocifisso? è Gesù no? perché è il crocifisso Gesù? quando era di ascendenza notevole no? poteva intervenire il papà e invece il papà lo manda in uno dei popoli più aggressivi della terra specialmente su questioni religiose con l'incarico di parlare proprio di questioni religiose in modo innovativo lo mette nei guai e poi non lo salva ecco sulla punta dei campanili ci sarebbero stati bene altre figure del del Vangelo per esempio Gesù che aiuta una persona in difficoltà no? oppure Gesù con la maddalena perché no? Gesù che moltiplica i panni e i pesci Gesù contento Gesù risorto e invece c'è Gesù nei momenti dell'agonia perché? perché quello è nella nostra mente quella è la nostra cultura quello è il dramma forte l'impulso profondissimo tanto da sembrare quasi naturale tanto è profondo è cupo del genitore allo sterminio del figlio poi anche nella storia di Edipo è il padre che vuole uccidere Edipo non è Edipo che vuole uccidere il padre e il padre sa quello che sta facendo Freud non l'ha visto questo non l'ha visto come ha fatto a non vederlo non tornava per il suo schema ma lo schema non si fa così con uno schema lo schema è agile lo schema si cambia se non funziona lo si adatta alla situazione e invece niente ha mantenuto questa cosa e come ci ha creduto la gente come ci ha creduto perché? perché quarto tema che era questa era l'introduzione adesso passiamo all'argomento di stasera quarto tema l'inconscio Freud dice esiste l'inconscio non rido perché ecco 50 anni fa a questo punto già mi avrebbero spinto fuori ma a spintoni proprio cosa stai facendo cosa stai dicendo sei pazzo ecco Freud dice che esiste l'inconscio che in tedesco si chiama unbevustes cioè che non si può sapere io posso dire che qui c'è accanto a me un suggeritore che mi dice cosa dire ma tu non puoi vederlo e poi teorizzo questa cosa tu mi dici non lo vedi certo è invisibile siccome è invisibile non puoi dire niente io so che c'è e tu non sai che c'è ma io so che c'è e io ho ragione e tu no questa è la teoria di Freud l'inconscio ecco esiste davvero l'inconscio mi dai una prova ci sono degli atti spiegabili solamente se uno lascia correre l'ipotesi di forze di cui la mente non è consapevole che agiscono al di là del soglio dell'attenzione ma questo non è inconscio questa è distrazione questa è mancanza di attenzione è mancanza di conoscenza di se stessi non c'è bisogno di ipotizzare una regione stabile inconoscibile che già pensate in in ambito scientifico dire una cosa è inconoscibile ed esiste non si può perché se dici che c'è non puoi dire che è inconoscibile perché se allora tu come fai a sapere che c'è se dici che c'è vediamo cos'è ma se tu la chiami inconoscibile mi intralci un po' al lavoro metti che io scopro cos'è ti do torto perché bisogna cambiare il nome non è più inconscio diventa qualcosa di conoscibile quindi il termine è una trappola può essere una trappola può non essere cioè una trappola vera e propria se uno pensa che sia non una affermazione scientifica ma un'affermazione dogmatica religiosa esiste questa cosa ma non si può conoscere sono i dogmi peggiori i dogmi col non sono i dogmi che affermano sono i dogmi che negano per esempio dogma che afferma il papa il dogma cattolico il papa ex cattedra è infallibile afferma dogma che nega Dio non è conoscibile ecco Agostino Sant'Agostino che probabilmente Freud non conosceva perché non era molto colto ha una frase famosa che è si comprendis non est Deus se lo capisci non è Dio se è una cosa che tu capisci e dici ecco questo è Dio ecco lascia perdere se è una cosa che capisci non può essere Dio e questa frase si corrisponde un po' all'inconscio Freudiano con una differenza che Dio è in alto l'inconscio è in basso dire che c'è in alto qualcosa che non arriverai mai a conoscere ma con la quale sei connesso è un conto vuol dire che ti puoi superare in continuazione dire che dentro di te in basso c'è qualcosa che non puoi conoscere è proprio il contrario vuol dire che dentro di te c'è qualcosa che ti fa la posta e tu non puoi mai voltarti e prenderla sul fatto capite la differenza è un prodotto di angoscia c'è in me qualcosa che mi agita e io non posso sapere cos'è e devo solo tenerlo a bada questo è l'inconscio Freudiano ecco la parte a proposito in Freud non c'è la parte sopraordinata non c'è quello che Agostino chiama Deus non c'è Dio cioè nella mente umana il punto per Freud il punto più alto del sapere è la mente cosciente la vetta tutto il resto è sotto e l'inconscio è una cloaca è la parte meno evoluta dell'uomo piena di pulsioni oscure di cose stupide di cose pericolose feroferoci eccetera la psicologia contemporanea di Freud diceva guardi professore si sbaglia per esempio Freud diceva c'è come la parte sopra cioè Jung diceva c'è come la parte sopra si chiama la chiamata così non so come chiamare la chiamata se che non è una grande idea Jung diceva c'è la mente poi c'è il se ognuno di noi ha intorno in alto una dimensione che è una bella idea anche questa non dimostrata ma almeno se è leggendaria almeno che è ispiratrice c'è una dimensione sopraordinata in cui ognuno di noi ha dentro di sé ha dentro di sé ha sopra di sé intorno a sé una specie di uomo di essere umano universale che ha l'esperienza degli ultimi tre milioni di anni e sa tutto e si ricorda tutto questo si chiama sé noi ci entriamo in contatto in alcuni momenti attraverso il sogno attraverso l'arte attraverso le visioni o le esperienze mistiche diceva Jung Freud diceva stupidaggini non esiste sopra la mente non c'è c'è solo l'inconscio più giù che è pieno di porcherie Popper che era un famoso filosofo della scienza che era anche lui stupito del successo di Freud diceva aveva un'altra teoria la conoscete la teoria dei tre mondi una teoria semplicissima Popper è il più grande filosofo della scienza del secolo scorso ultra razionalista per niente spirituale e dice è molto semplice la conoscenza è fatta di tre dimensioni tre mondi mondo uno mondo due mondo tre il mondo uno è quello materiale questo questo è mondo uno questo è mondo uno la mia mano è mondo uno questo è il mondo uno mondo materiale ha le sue leggi mondo due è il nostro mondo psicologico il mondo dei nostri problemi in cui noi ragioniamo ci sbagliamo facciamo calcoli abbiamo i nostri metodi di ricerca abbiamo i nostri conflitti i nostri guai questo è il mondo due questo è il mondo due e poi c'è il mondo tre il mondo tre è il mondo delle teorie diceva delle opere d'arte quando nel mondo due si riesce ad elaborare una teoria questa teoria sale verso il mondo tre e lì rimane per sempre la differenza tra un mondo tre un mondo due e un mondo uno è che il mondo uno e il mondo due hanno il tempo e lo spazio il mondo tre non ha il tempo non ha lo spazio e niente invecchia nel mondo tre e niente è giovane niente è vecchio niente è nuovo e niente è antico abbiamo detto quando uno elabora una teoria nel mondo due sale nel mondo tre sale la teoria e rimane lì per esempio Einstein trova la teoria della relatività sale nel mondo tre e la teoria della relatività resta lì per millenni sempre giovane ho anche un'opera d'arte Shakespeare scrive l'amletto l'amletto sale nel mondo tre e l'amletto rimane lì ha scritto alla fine del cinquecento se lo leggi adesso è ancora uguale a prima e ha ancora tantissime cose da dire e Popper dice sì ma da dove arrivano queste teorie queste opere d'arte arrivano dal mondo tre il mondo tre è immenso non ha il tempo non ha lo spazio e contiene tutte le opere d'arte possibili e tutte le teorie possibili a volte qualcuno riesce ad arrivarci magari un bambino magari uno scienziato magari un grande pittore magari Van Gogh con la sua mente un po' annebbiata però ci arriva prende un capolavoro lo porta giù nel mondo due nel mondo due lo realizza il capolavoro poi torna nel mondo tre dove rimane sempre uguale a se stesso meravigliosamente uguale a se stesso ecco noi abbiamo la mente fatta in questo mondo e possiamo passare da un mondo all'altro ci sono persone che sono legate al mondo uno sono solo materia e il mondo tre è potentissimo perché le teorie ci sono teorie buone teorie cattive tra le teorie c'è la bomba atomica la bomba atomica è il prodotto di teorie del mondo tre che possono distruggere il mondo uno guarda il mondo tre come è importante e questo vale sia per la scienza nel suo complesso per la cultura nel suo complesso sia per il singolo individuo questa è l'idea di Popper sulla psiche umana e questa l'aveva fatto molto più cioè a dare retta adesso a queste teorie qua a vedere Jung vedere Popper e vedere Freud oggi nel 2023 sicuramente uno preferisce o Jung o Popper ma Freud non lo preferisce nessuno perché non convince più nessuno Freud e invece capitava proprio il contrario nel secolo scorso per Freud tu sei condannato a portarti dentro questa parte oscura scimmiesca animalesca cupa profonda senza neanche un attimo di intelligenza quindi non si spiegherebbe per esempio secondo Freud il fatto che Jung avesse dei maestri invisibili che gli spiegavano come creare una psicologia perché dove li ha presi ma Freud come negava l'importanza del suo sigaro negava l'importanza dei maestri invisibili di Jung perché non rientrava nella sua teoria poi ci sono sì tante cose che dimostrano questo tipo tipo il dottor Jekyll e Mr. Hyde che è un romanzo del 1886 Freud aveva 30 anni forse l'aveva letto conoscete la storia sicuramente la conoscete il dottor Jekyll anche il suo nome è un po' cattivo perché vuol dire io uccido in inglese Jekyll è un filantropo una persona buona che si interessa di chimica tra le altre cose è coltissimo si interessa di chimica al suo laboratorio fa tanto bene all'umanità a un certo punto si mette in mente di distillare un filtro usando proprio delle formule chimiche dei sali degli acidi un filtro che isoli e faccia emergere la sua parte buona le faccia diventare più forti di tutte le altre componenti della sua psiche prova il suo filtro e purtroppo c'è stato un errore fa emergere la sua parte cattiva viene fuori una persona mostruosa beve il filtro nel giro di pochi minuti si trasforma in un essere mostruoso un essere mostruoso che lui aveva in sé racconta Stevenson e che era un pochino più basso di lui per cui i vestiti di Jekyll gli vanno larghi le maniche sono troppo lunghe i pantaloni sono troppo lunghi perché dice me lo spiegai facilmente dice perché è un diario me lo spiegai facilmente perché non l'avevo allenato abbastanza la sua struttura fisica era rimasta ancora adolescenziale infantile ma c'è voluto poco tempo è cresciuto rapidamente perché io più prendevo questo filtro più lui agiva e usciva dalla porta del retro di casa mia e andava a fare porcheria a Londra omicidi e altre cose terribili in giro per la città ecco come dice questo qui è chiaramente dimostrazione dell'inconscio negativo che ognuno porta in sé poi sapete come finisce finisce che ve lo dico tanto sicuramente ma forse no forse è meglio che ve lo leggete da voi comunque diciamo verso la metà il filtro uno si accorge che cioè lui si accorge che il filtro funziona anche se lui non lo prende e poi si accorge che l'antidoto quando finisce l'antidoto prova a rifare l'antidoto che lo fa ridiventare Jekyll quando lo rifà seguendo la stessa formula non funziona l'antidoto è strano perché la formula è quella lì ma si accorge che la prima volta che aveva fatto l'antidoto che aveva funzionato c'era un sale alterato e riprodurre l'alterazione c'era una muffa in quel sale riprodurre quell'alterazione diventava impossibile per cui non ha più l'antidoto e qui niente poi leggete il finale è un raccontino di 70 pagine Freud avrebbe detto ecco ecco la dimostrazione così infatti come è stata la storia di Dr. Jekyll e Mr. Hyde è stato un sogno Stevenson l'ha sognato lo racconta nel suo diario Stevenson stava dormendo a un certo punto la moglie l'ha svegliato lui ha dato una scandescenza perché è mai svegliato sto facendo un sogno così importante così non ho visto il finale e poi è corso a scrivere in due o sei giorni ha fatto il racconto del suo sogno e Freud avrebbe detto ecco è chiaramente l'inconscio che si manifesta lui l'ha capito perché era una persona illuminata ma è vero no perché il romanzo non parla proprio di qualcosa del genere c'è una metafora la casa di Jekyll confina con i quartieri popolari è l'ultima casa ricca di un quartiere che prima era ricco e che adesso è diventato un quartiere di piccoli commercianti di operai e Jekyll odia il dottor Jekyll pur filantro poi tutto odia la classe inferiore quindi si manifesta in Jekyll e questo intendeva Stevenson si manifesta in Jekyll il rancore l'odio del predominio che è la parte popolare che doveva essere sottomessa sta manifestando sempre più decisa nel regno del regno inglese regno inglese sta diventando di sinistra diventare sinistra bisogna combattere questa cosa allora per combattere viene fuori da me l'odio che io nascondo io filantropo nascondo e vado a fare tutti i miei crimini ad ammazzare poveri e prostitute e disgraziati solo quelli non va mai a colpire gente di alto livello c'è un racconto sociale e questo sì sarebbe possibile questo sarebbe anzi la spiegazione del perché Freud ha avuto tutto un tratto questo gran successo era un periodo il novecento in cui l'occidente diventava sensibile più sensibile di prima a una serie di gravi sciagure che aveva provocato nell'ottocento l'occidente nell'ottocento è il popolo sterminatore l'occidente è quello che nell'ottocento distrugge gli indiani in America distrugge i polinesiani cerca di distruggere gli indiani gli indiani dell'India e non ci riesce distrugge più popoli che può dappertutto e opprime sempre di più fortemente per questione del progresso dell'evoluzione della tecnologia la classe operaia e fa finta di niente e fa finta di niente ecco Freud dice c'è la mente lucida delle persone che vengono da me a curarsi e che sono disposte a pagare e dentro di loro in basso che preme dal basso che dà fastidio che aggredisce c'è una mente oscura non evoluta qualunque persona di un ceto alto a quell'epoca anni 20 anni 30 avrebbe detto è vero non mi interessa se sia vero psicologicamente o no ma è vero dal punto di vista sociale io sento dentro di me la spinta di qualcosa di non evoluto che mi circonda tutto intorno è che è la gente che sta male in Europa per non parlare poi delle colonie delle colonie dove noi europei nel novecento eravamo diventati le carogne terribili sfruttavamo pensa il belgio in Africa anche i tedeschi in Africa e nascondendo continuazione questo rimorso si forma tranquillamente la giustificazione dell'idea dell'inconscio ah ecco dunque dunque forse Freud è cominciato successo di Freud perché giustificava può darsi che fosse una giustificazione di un malessere sociale l'ha fatto apposta Freud no non l'ha fatto apposta ha sentito l'epoca è stato in consonanza con l'epoca e per sentire l'epoca l'ha amata Freud è una persona che tra le sue caratteristiche ha quella di aver amato tantissimo il suo tempo d'altra parte per sentire qualcosa così profondamente bisogna amarlo questo qualcosa si vede da una lettera del 32 diventato un saggio di Freud che in realtà è di Freud e Einstein nel 32 il 32 prima della seconda guerra mondiale nel 32 Einstein scrive a Freud e dice caro professore io non capisco niente della sua della sua scienza però la società la società della nazione e così via mi hanno chiesto di aprire un dibattito tra le figure più eminenti del nostro tempo sui modi per evitare una guerra io sento che questo problema ci colpirà da vicino tra un po' 1932 non c'era neanche il nazismo eppure Einstein aveva già capita questa cosa e penso che sia il tempo che le persone famose che si occupano specialmente di psicologia dedichino se non i loro studi almeno la loro presenza il loro parere a trovare dei metodi ognuno nel suo campo per impedire lo scoppio di una futura guerra lei è un maestro in una psicologia ci dia qualche consiglio bella lettera molto bella e Freud ha risposto mi spiace di deluderla caro professor Einstein io penso che la guerra ci sia perché ci deve essere e che non si possa fare niente che l'impulso aggressivo per forza c'è certo è brutto certo tutto quello che è evoluzione va contro la guerra però l'evoluzione fa anche le macchine per distruggere e noi bisogna tener conto anche di questo quindi posso dirle posso augurarle bene tanto bene per il suo lavoro ecco il mio contributo che posso darle cosa vuol dire questa cosa che viene presentata come un esempio di ovviamente Freud era beniamino per cui viene presentata come un esempio di realismo di Freud di resistenza alle facce di illusione vuol dire che Freud alle cose così come stavano non obiettava niente cioè va bene così va bene così io do solo quasi inconsapevolmente un modo per giustificare il disagio che la gente sente naturalmente per giustificare il disagio che la gente sente bisogna assolverlo io lo assolvo io dico che a tutti quanti noi abbiamo impulsi distruttivi dentro il nostro inconscio impulsi oscuri negativi terribili criminosi e sapendolo e venendolo a dire a me io li assolvo e li giustifico perché li abbiamo tutti e non c'è nessuna legge al di là della mia soluzione non c'è religione che perdoni non c'è evoluzione possibile c'è solo questa lotta tra noi e la parte oscura certo questo vuol dire che l'io è molto fragile se l'io è così fragile non ci si può aspettare granché dall'io si può aspettare per esempio che trovi il metodo di evitare le guerre perché come fa un io a evitare le guerre quando ha dentro di sé l'inconscio pieno di impulsi aggressivi primitivi quindi bisogna rassegnarsi al mondo così com'è così com'è aiuto i miei pazienti a rassegnarsi a una moderata infelicità dopo 6 o 7 anni di terapia con me così vorrei che il mondo intero si rassegnasse alle cose così come sono le ropesse le scatole c'è un saggio di Freud che dice che si intitola al di là del principio del piacere dice sì ci sono le cose belle nel mondo le cose belle l'amore la bellezza eccetera che mirano una situazione di piacere però la situazione di piacere bisogna stare attenti perché la situazione del piacere porta in una direzione precisa verso un piacere che è il massimo di piacere che esiste di cui tutti gli altri piaceri sono solamente delle approssimazioni che è la morte che è la morte cioè quando una persona è molto innamorato ecco vuole morire d'amore quando una persona sente qualcosa di molto bello questo abbandono che sente a qualcosa di bello che sia fisiologico o intellettuale è una mimica della morte quindi il piacere bisogna stare attenti perché è pericoloso perché porta in una direzione di morte bisogna opporsi al piacere e al principio del piacere io oppongo il principio di realtà reality principle perché nel piacere c'è la morte questo è Freud il piacere c'è la morte il principio di realtà che cosa dice dice va bene tutto ma io domani alle 7 devo svegliarmi perché alle 8 devo essere in ufficio quindi piacere o non piacere devo portare a casa lo stipendio sono impiegato del governo imperial regio dell'Austria e devo per forza presentarmi in ufficio questo è quello che salva l'umanità dall'autodistruzione ecco uno leggendo questo saggio che era fondamentale nel secolo scorso lo legge adesso questo è un pazzo questo è un criminale ma naturalmente cosa avrebbe distrutto cosa avrebbe distrutto la teoria freudiana d'un tratto qualsiasi opera d'arte qualsiasi opera d'arte vai a dire a Bosch o a Bruegel che l'inconscio non si può conoscere che la parte oscura dell'uomo non si può conoscere bisogna solo difendersene Bosch o Bruegel avrebbe detto lasciami lavorare ma che scherzi non disturbami sto finendo il quadro dell'inferno o Dante per esempio se qualcuno gli avesse detto sai che Freud dice ma cosa mi importa fammi finire sono al quinto canto dell'inferno sto indagando proprio nella parte oscura dell'uomo e di Dio e perché posso farlo oppure Edgar Allan Poe o Lovecraft perché posso farlo ma perché c'è il paradiso perché io posso con la mia mente normale non ci arrivo a guardare la parte orribile se però io tengo presente che in me c'è anche il principio del piacere della felicità non moderata in felicità ma felicità alta allora da questo principio alto è la legge dell'arte io posso vedere anche l'orribile mi dà la forza di vedere l'orribile e più è in me l'idea di una felicità immensa di una luminosità immensa nella mia mente sopraordinata più ho la forza di vedere l'orrore mio o dei miei contemporanei o del passato dell'umanità intera e naturalmente Freud si rendeva perfettamente conto di questo per cui per Freud il nemico principale è sempre stata l'arte i saggi di Freud sulle opere d'arte sono un'applicazione diretta delle sue teorie cioè nell'opera d'arte Freud vede quello che gli dà ragione c'è un saggio di Freud Freud era appassionato di scultura e gli piaceva moltissimo la statua del Mosè di Michelangelo che è a San Pietro in Vincoli a Roma e ci andava a vedere questa statua per me era una meraviglia bellissima e ho letto tanto su questa statua e tutti quanti mi ha colpito il fatto che tutti gli esperti critici d'arte che la descrivono fanno degli errori nel descriverla cioè la guardano ma non la vedono vedono che tiene il libro con la sinistra e invece lo tiene con la destra Mosè che tiene il libro così vede che ha la mano appoggiata sulla testa però invece dicono che ha la mano appoggiata in un'altra parte io mi do meraviglio come mai loro sbagliano tutti io solo io ho visto com'è veramente questa statua che pure è visibile a tutti il saggio del 1914 lo pubblica nel 1924 nel 1927 lo pubblica con un'aggiunta dice qualcuno si sarà accorto che nel descrivere la strada del Mosè di Michelangelo ho fatto due errori cioè ho detto che era fatta così e invece chiunque può constatare che non è fatta così cioè non l'ha vista neanche lui praticamente bello è che lo dici ma questo ha nessuna importanza ha nessuna importanza perché il contenuto del mio saggio vale lo stesso interessante questo modo di vedere le opere d'arte cioè io le guardo e non le vedo perché se le vedessi vi darebbero torto se le vedessi le opere d'arte se io vedessi nelle opere d'arte la bellezza invece che è la sintomatologia perché per Freud l'opera d'arte è un insieme di sintomi neurotici è il fatto che l'impulso secondo lui l'impulso sessuale viene bloccato nell'artista bello è che solo secondo lui perché interpellando qualsiasi artista nessuno qualunque artista non viene bloccato per niente l'impulso sessuale ecco poi no questo artista è incompetente l'impulso sessuale viene bloccato e l'impulso bloccato viene sublimato in un modo che è impossibile spiegare uno dice chissà come è mai impossibile spiegarlo beh non è importanza dice Freud viene sublimato e produce opere d'arte pensate per esempio a Leonardo Leonardo era omosessuale ha frenato il suo impulso omosessuale e guarda che opere d'arte magnifiche ha prodotto ma dalle opere d'arte si vede tutta la sintomatologia del suo disturbo ecco Leonardo non ha mai represso il suo impulso omosessuale cioè il suo impulso omosessuale l'ha sempre praticato tranquillamente e soprattutto le sue opere d'arte Leonardo le guardi l'ultima cosa che ti viene in mente è che sia un sintomo nevrotico è un modo questo tipicamente ottocentesco questo di distruggere l'opera d'arte e la bellezza nell'ottocento c'era la credenza una fissazione a voler vedere nell'opera d'arte l'espressione esclusivamente l'espressione di un artista cioè Tolstoi scrive guerra e pace per raccontare di sé e non puoi capire guerra e pace si diceva nell'ottocento se non conosci Tolstoi studiati Pirino Tolstoi e poi capisci guerra e pace così anche non so Dante bisogna sapere chi che tipo era Dante cosa faceva cosa non faceva e poi solo poi si capisce la divina commedia naturalmente questa idea è durata una ventina d'anni non di più perché poi sono accorti che era un disastro e nessuno adesso ha bisogno di conoscere Tolstoi per vedere la bellezza di guerra e pace nessuno al mondo guerra e pace sta solo anche se pensi che Tolstoi fosse stato non so inglese o tedesco o altro guerra e pace è un romanzo che fa tranquillamente a meno di Tolstoi invece Freud è questa idea tipica proprio degli anni quando era giovane Freud 1880 1890 in Italia De Santi se era così lui nell'opera d'arte vedeva il diario dell'autore ma nell'opera d'arte non è l'autore che parla tra il Tolstoi autore e il Tolstoi proprietario terriero russo non c'è nessuna sovrapponibilità non sono due figure che stanno una sopra l'altra i cui angoli coincidono perfettamente niente affatto uno è una cosa l'altro è l'altro anch'io personalmente quando leggo un mio libro lo sottolineo che non ha senso l'ho scritto io non posso studiarlo se l'ho scritto io però non l'ho mica scritto io cioè mi accorgo che quando lo rileggo sono molto più stupido di quando l'ho scritto come qualità intellettuale il libro non esprime affatto me esprime qualcosa a cui io ho dato il mio contributo e questo chiunque anche un bambino scrive una poesia la poesia non parla di lui parla innanzitutto ogni poesia parla innanzitutto della poesia stessa questo Freud non gli entra in mente è importante per Freud che l'opera d'arte sia ridotta al minimo a reperto medico e che la bellezza non disturbi la sua missione di giustificare l'epoca in cui vive c'è una in quest'epoca una tendenza che dura ancora che è la lotta senza quartiere tipica della nostra civiltà tra il principio del noi e l'io la nostra civiltà è cominciata così la nostra civiltà occidentale è cominciata con la rivoluzione francese in cui un noi una massa decapita singoli aristocratici tanti perché? perché loro non sono noi ognuno di loro è un io e noi non sopportiamo gli io dopo c'è Napoleone Napoleone si è un io lui lui solo può perché? perché mette insieme un noi gigantesco un noi che vive che vive comunque anche se le sue parti muoiono anche i suoi io che lo compongono muoiono e nel quale noi c'è un solo avversario profondo che è l'io di chiunque lo compone perché se all'interno di un noi una persona dice no io non ci sto io sono io non sono un noi io sono io il noi lo odia e il nostro secolo è venuto dopo l'ottocento che è il secolo del noi che sarebbe il secolo degli ismi il secolo del comunismo nato nell'ottocento il socialismo nato nell'ottocento poi nel secolo del novecento il fascismo il nazionalismo lo stalinismo che cos'erano? erano tutti quanti noi grandi noi che detestavano profondamente l'io nell'epoca precedente non era così nel cinquecento nel seicento il lio non era schiacciato l'io era importantissimo era talmente importante che c'erano gli erettici gli erettici che venivano bruciati pubblicamente perché bisognava far paura alla gente vedi quello lì che è stato un io che ci ha messo nei guai tutti quanti adesso vedi che brutta fine che fa non vorrei mica fare così anche tu lì il noi era ancora in dubbio aveva ancora paura dei singoli individui invece nel settecento ottocento novecento c'è il noi che schiaccia gli io come niente fosse la teoria di Freud corrisponde a questo perché il singolo individuo che dice io forse ho fatto un'opera d'arte importante che mi porta verso il sublime verso la felicità e porta anche la gente in questa direzione no tu hai fatto solo un sintomo e questo sintomo te lo abbatto tranquillamente e faccio dire che anche tu sei tale quale agli altri che sei un noi intero e non esistono persone eccezionali salvo naturalmente io Freud che è l'unico di tutto il movimento psicoanalitico a non aver fatto l'autoanalisi lo sapete per fare lo psicoanalista non deve farsi analizzare prima ecco Freud da chi si poteva fare analizzare da nessuno perché l'ha inventata lui e non si è mai andato a farsi analizzare da qualcuno è rimasto non analizzato diciamo in uno statuto veramente da profeta da profeta tipo Mosè che guida il popolo senza essere messo in discussione bene dura ancora questa cosa in alcuni sì dura ancora perché è semplice perché è molto facile capire il modello di Freud qui c'è la mente in alto qui c'è il superio qui c'è l'inconscio in basso profondo cupo lo impari in poco tempo con minimo sforzo lo memorizzi lo applichi hai uno schema che può servirti a interpretare a distruggere qualsiasi cosa a pianificarla a pianarla in uno in uno schema di cui si è già risultato che alla fine ti porterà all'invidia del pene o al senso di colpo originario oppure al complesso di Edipo è finita questa cosa sì è finita qualcosa l'ha sostituita beh sì c'è tanta roba che si muove al di là della della psicanalisi purtroppo c'è tanta roba che si muove in direzione ancora peggiore cioè per esempio l'europsicologia che dice non è che Freud aveva torto l'analisi dei sogni è che i sogni non vanno analizzati perché i sogni sono solamente delle vibrazioni in particolare che si producono all'interno del cervello durante certe fasi del sonno e non hanno nessun significato e l'europsicologia sarebbe cioè toglie di tutto il problema e qualsiasi problema di carattere psichico nell'europsicologia viene risolto con farmaci principalmente e con un po' di aiuto di psicanalisi cioè non di psicanalisi di psicoterapia quella è la direzione di Freud che prosegue in peggio in l'appiattimento generale naturalmente i grandi inascoltati rimangono ancora inascoltati Freud non è insegnato nell'università Jung Jung non è mai stato insegnato all'università mai dice cose più interessanti di Freud però mai insegnato nelle facoltà di psicologia voglio dire Popper è quasi dimenticato Einstein è passato in secondo piano dopo la quantistica che sapete la meccanica quantistica siccome la scienza è sempre segue sempre la propria epoca è sempre lo scienziato che ha successo è sempre consonante con la sua epoca la quantistica è una critica che gli fanno in tanti è quella inventata dagli specialisti di Hitler che dice che lo sperimentatore non c'entra niente cioè che l'esperimento avviene e segue regole sue su cui lo sperimentatore non può influire non deve influire cosa che suonava benissimo Auschwitz no? lo sperimentatore funziona lo sperimentatore non deve influire sull'esperimento non deve intervenire con la sua opinione perché se no rovina l'efficacia dell'esperimento una cosa che poteva essere pensata proprio negli anni 30 e 40 da uno dei capi della fisica quantistica che era l'esperto missilistico del Reich del terzo Reich la scienza è sempre così anche Einstein anche Darwin quando parla dell'evoluzione dice che l'evoluzione è lentissima l'evoluzione viene in 800 mila anni 600 mila anni quindi sappiate che non cambierà niente durante la vostra vita non compreranno specie nuove di nessun tipo ecco questo era d'accordo è praticamente in accordo con il 1856 con la metà dell'800 quando è uscita l'origine della specie di Darwin dove davvero da 30 anni non cambiava niente nel mondo poi nel 900 prima del 900 è stata fuori un'idea dell'evoluzione che invece fulminea che si cambia una specie nuova può crearsi solo in tre generazioni l'idea del saltazionismo si chiama avuto fuori 1903 1905 certo il mondo stava cambiando in continuazione e la scienza obbedisce a questo ecco quella che rimane fuori da questo condizionamento della scienza che tra l'altro Freud non è neanche scienza e psicologia che è una forma di filosofia diciamo ecco quella che rimane fuori è sempre la solita vecchia arte la quale indifferente totalmente indifferente alle idee di Freud sull'inconscio persegue da sempre i suoi obiettivi dimostrandolo in modo più evidente che l'inconscio non è la base della nostra vita l'inconscio oscuro non c'è bisogno di base è come una stella sono i raggi bassi i raggi alti ce ne sono molti e l'arte è quella che li esprime tutti cerca di esprimere tutti quanti senza nessuna paura e senza nessuna renitenza c'è uno scrittore russo Dostoevsky che dice una frase che è avuto molto successo la bellezza salverà il mondo ecco detta da Dostoevsky è una butade perché è molto vaga nell'ottocento piacevano le cose vaghe nell'ottocento erano tre problemi che restavano insoluti cos'è la bellezza non si sa nessuno l'ha mai stabilito cos'è il mondo è un po' difficile da dirlo in che senso salvare boh quindi la bellezza salverà il mondo suona bene ma non si capisce cosa dice applicata a Freud si funziona cioè l'idea della bellezza dell'arte che produce di bellezza che salva dalla fascinazione di teorie come quella di Freud in questo caso si è vero ma non che salva il mondo la bellezza la bellezza salva l'uomo salva la scoperta la possibilità che l'uomo ha di conoscere se stesso attraverso le opere d'arte invece che attraverso schemi e la bellezza è molto difficile definire come dicevo appena adesso non c'è riuscito neanche Kant a dire cosa si può essere cosa può essere detto bello uno scrittore uno studioso tedesco un filosofo tedesco Adorno dice la bellezza possiamo valutarla solo nel suo fenomeno di apercezione cioè cosa senti tu quando vedi la bellezza senti una sensazione di attesa vedendo la bellezza una cosa bella che può essere un fiore un cavallo una persona una nuvola un romanzo una poesia una musica ecco quella sensazione che senti somiglia più che a qualsiasi altra cosa all'attesa all'attesa di non sai che cosa e ci siamo di fronte alla bellezza tu hai la possibilità di aspettarti da te e da tutto molto molto di più di quello che qualsiasi schema può darti anche lo schema più semplice di tutti io sono fatto così ecco di fronte alla bellezza quell'io sono fatto così sparisce nel momento in cui ti innamori per esempio il fatto che tu sei fatto in un certo modo che hai certe abitudini non ha più nessun peso perché hai sentito la bellezza e tu non importa chi sei stato non importa cosa sarai tu puoi essere molto di più d'un tratto Freud l'ha evitata è l'antidoto principale la bellezza a tutti questi inganni che possono capitare per un secolo intero tra l'altro il secolo il più brutto di tutti fino adesso il secolo della bomba atomica il secolo dei campi di concentramento il secolo di Stalin ecco lì c'è cascato anche proprio Freud e la bellezza è stata dimenticata come non mai per fortuna la bellezza è fruibile in qualsiasi tempo da chiunque ed è l'elemento salvifico che Dostoevsky raccomandava a tenere presente grazie per l'attenzione grazie